Podcast SEO, una puntata veramente speciale! Eccomi! Oggi parliamo di Podcast SEO, tutte quelle cose che nel mondo di podcast non sono prese in considerazione. Prima lo faccio ringraziando Giulio Guardiano, Festival del Podcasting, che mi ha consentito di replicare questo intervento. Visto che al festival avevo 15 minuti, visto che volevamo divulgare a quante più persone possibile questo intervento, ho chiesto semplicemente di poterlo rifare con più calma, con qualche magari aggiornamento o piccola informazione in più. E poi ringrazio Rossella Pivanti e Andrea Ciraolo che mi hanno introdotto e con i quali ovviamente sapete con Andrea ho una lunga collaborazione in corso, ci sarà stagione youtuber, professione youtuber stagione 2 a breve, vi annunciamo tutto, quindi seguiteci. E poi con Rossella Pivanti, questo mercoledì parleremo di podcast in live, tutto quello che accade dopo che hai pubblicato questo podcast. Ma cosa accade dopo che hai pubblicato un podcast? Perché? C'è delle cose troppo importanti che riguardano la visibilità, quindi fallo ascoltare a tutti e la puntata trovate tutto in descrizione, la live di mercoledì sarà alle 9 e in linea generale mi trovate ovviamente su Telegram, su Telegram, io sono praticamente con fast forward su YouTube ovviamente, su Telegram e poi su tutti i canali di podcast. Invece condivido costantemente come community manager su connect.gt dove aiutiamo un sacco di professionisti, tante tante cose. Ma passiamo a quello che è oggi, questo, la visibilità di un podcast. Come si fa a creare un podcast che sia visibile? Al festival del podcasting abbiamo parlato di tante cose, allora ho diviso questa parte, questo intervento in quattro parti. Una è la parte brand dove stiamo entrando, quindi brand, sito, SEO e social, le quattro parti. Allora, prima di me è intervenuto Matteo Flora. Matteo Flora lo conoscete, no? Un canale YouTube parla alla rubrica Ciao Internet, parla di tante cose e ha fatto delle considerazioni molto interessanti dicendo che noi su YouTube e sui podcast comunque scegliamo, in genere veramente ha detto Matteo, scegliamo una persona perché è una scelta identitaria, scegliamo il personaggio, quello che ci rappresenta, soprattutto nei valori identitari. Matteo ha dato dei consigli poi pratici, ha detto guardate che magari segnatevi i vostri tre valori e cercate di capire se li potete rispettare, se li state rispettando. E ha detto anche quando pubblicate un podcast, lo state registrando, avete finito un video anche, no? Quando è finita la domanda da porsi, ma questi tre valori li stiamo rispettando? No? Perché forse non viene neanche, non conviene neanche pubblicare. Una frase molto forte ma io condivido. E poi ha accennato al linguaggio e il linguaggio è fondamentale, il linguaggio è fondamentale. Perché il linguaggio è quello che ci consente di entrare in contatto con le persone che sono, che possono in qualche modo sceglierci come personaggi. È una cosa importante il linguaggio. Perché tanti guru nel mondo del marketing la buttano in cacciara e urlano e usano un linguaggio forte? È il primo filtro in assoluto, quei grandissimi funnel che ci fanno vedere. All'inizio del funnel sapete cosa c'è? Non c'è quante persone hanno visto in qualsiasi funnel il tuo messaggio pubblicitario, c'è quante persone tu hai filtrato, cioè su cento persone che l'hanno visto, ma quante sono entrate in contatto davvero col messaggio? E lo stesso avviene nei podcast, lo stesso avviene con i video. Il linguaggio definisce anche il pubblico che ci può ascoltare. Quindi è importantissimo questa storia del linguaggio è veramente fondamentale e sottovalutata. Le parole che usiamo, il linguaggio che creiamo noi con parole nuove o con termini specifici per il nostro pubblico. Questo ci rispecchia molto. Favij è diventato molto popolare anche perché parla il linguaggio delle persone che hanno la sua età. È fondamentale, è sottovalutato, sottovalutato. Quindi è un aspetto importante. Ora ci sono tre cose importanti che vi voglio far vedere per il vostro podcast. Il nome del podcast, lo slogan e la promessa al mercato. Sono tre cose molto importanti perché il podcast dal mio punto di vista, a parte qualche eccezione dove le puntate fanno la differenza, i singoli episodi possono fare la differenza e per quella singola puntata può diventare conosciuto un podcast, in verità però io noto che il nome del podcast fa la differenza. Il nome del podcast fa la differenza quindi sceglietelo bene con cura perché non ha la stessa importanza, il nome in questo caso non ha la stessa importanza che ha per un blog, non ha la stessa importanza che ha per un sito. Per il podcast è molto più importante, è molto più importante. Lo slogan è fondamentale, la promessa al mercato è importantissima. Guardate Silvia bevi l'acqua che ormai cito un po' dappertutto. Silvia l'abbiamo incontrata più volte qui su Fast Forward. Silvia bevi l'acqua, maestra di Videomagie. Che cos'è che ha scritto qua? Insegno a raccontare con le immagini la tua impresa straordinaria. Ora la promessa al mercato è quella, quindi la reputazione di Silvia non è che è a caso, si lega proprio con la promessa al mercato che lei fa. Insegno a raccontare con le immagini la tua impresa straordinaria. Maestra di Videomagie è diciamo la sua definizione, quasi un'etichetta più piccola di lei. Rossella Vivanti, la tua storia come non l'avevi mai sentita. Eh che slogan, bellissimo, fantastico. E poi se ci facciamo caso, quando andiamo giù, la promessa al mercato è aiuto aziende, agenzie di comunicazione podcaster a sviluppare le idee e creare audio originali. Cioè ha una promessa al mercato, ha uno slogan, poi ha il nome. Quindi il nome, lo slogan e la promessa al mercato sono fondamentali per quello che sarà il podcast, per la visibilità del podcast. Dovete concentrare molto e magari prima di lanciarlo magari chiedere, chiedere informazioni, chiedere cosa pensano le persone perché è fondamentale. E se avete ovviamente già un brand in atto che comunica non può essere slegato ovviamente al vostro brand. È comunque una scelta. E qui entriamo un po' in un ambito in cui mi soffermo un attimo velocemente per passare poi le parti più tecniche. Però è una cosa importante che significa che è una scelta consapevole. È che quando si fa personal branding, il personal branding fatto bene ha il vantaggio incredibile di posizionarci nella mente delle persone per il nostro nome, lo slogan, la promessa al mercato, la reputation, quella che è. Poi è secondo ognuno di come costruisce tutta la sua comunicazione. Ma ha lo svantaggio che pochi raccontano. Secondo me, cioè nel senso che io ho ascoltato veramente poco. Nel momento in cui tu fai questo lavoro fatto bene, le persone ti identificano con la cosa che hai scelto. E tu dici ma come? È un vantaggio, no? In molti mi riconoscono come un esperto, una fetta di pubblico, diciamo così, di persone che mi seguono, mi considerano la persona sulla SEO più esperta d'Italia. Cosa che ovviamente non è così perché conosco persone, e tante, molto più brave di me, molto più esperte di me. Ma mi considerano perché faccio un ottimo lavoro di divulgazione, sono anni che aiuto un sacco di persone, sono identificato per una parte con la SEO, ma non per tutti. In realtà il mio lavoro principale è community manager da 20 anni, eppure non è la skill su LinkedIn, non ce l'ho, non ce l'ho. Ho tutte le altre skill ma quella no. Perché non mi sono, non lo dico mai, metto in firma ma non lo racconto. Poi sono conosciuto per la parte di YouTube, per la divulgazione, poi sono conosciuto per i social, poi sono conosciuto per l'arte di comunicazione, sto iniziando ad essere conosciuto per tante cose, quindi qualcuno è iniziato a dire che sono un esperto legato, più legato alla parte di internet, un divulgatore, tante cose, no? Ma io non ho fatto una comunicazione personale, non la farò mai, perché c'è un punto fondamentale che riguarda tutte le persone e che credo fortemente che ognuno di noi è una multitudine di cose. Noi siamo multitudini e io mi trovo stretto a fare personal branding in quel modo lì, che è forte, che funziona, che va bene, che lo consiglio. È proprio una scelta consapevole appunto, cioè significa che ora che ne stiamo parlando avete un po', un minimo, un'idea del mio pensiero e sapete che si può fare in un modo, oppure no, ma è una scelta consapevole. Quindi a me non interessa dire questa è la strada o quella è la strada. A me interessa dirvi ci sono queste due strade? Scegliete. Per me, qualsiasi sia la strada, se va bene per voi, va bene anche per me. Per me io non mi voglio posizionare a livello personale perché io non mi sento legato a niente, in particolare, e soprattutto non voglio farmi identificare con una sola cosa perché non sento di essere così. Ora, passiamo alla parte 2, che è il nostro sito internet. Il nostro sito internet è un aspetto interessante, importante, perché il sito internet, tra le altre cose, Rossella Pivanti, quindi ne parleremo nella live, vi consiglio mercoledì, la trovate in descrizione, non perdetela assolutamente perché sarà veramente, a corollario di questa, tutto quello che stiamo facendo, se è un podcast importantissimo, è il sito internet, se voi avete o non avete o stato il vostro file audio sul sito o se embeddate altri, è fondamentale. Il sito internet dà importanza al vostro progetto, dà autorevolezza al vostro progetto, passa tante cose a voi come persone. Avere solo il podcast non buono, non buono. Il sito internet vi consente di fare tante altre cose, di entrare in tanti altri canali che altrimenti col podcast non c'entrate, quindi è fondamentale per me avere il sito internet, fa uscire il podcast fuori dagli ambienti di podcast ai quali è abituato. Diciamo una piccola banalità, il podcast ad oggi per esempio non ha una visibilità su Google Discover o su Google News, con un sito internet, immaginiamo un podcast orientato alle news, ma anche no perché in Discover non ci entrano solo le news, un podcast fatto bene che tratta un po' di cose così può finire in Google News, in Google Discover, magari si trasforma in video, insomma lo fa uscire fuori. È fondamentale avere il sito perché lo fa uscire fuori, i podcast sono un po' chiusi nel loro ambiente. Ho sentito il podcast di Rossella, quando ho finito volevo commentare per esempio, ma non posso farlo. Ed è un peccato quindi l'ho condiviso su connect.gt ed è importante perché? Perché permette di essere linkato più facilmente. Non tutte le persone sono propense a linkare un podcast, quindi avere il sito collegato con tutte le puntate fatto bene consente ad una fetta di pubblico, ad una fetta di persone di internet di linkare più facilmente il vostro podcast e di consigliarlo anche in altri ambiti che non siano quelli orientati social, sempre ai podcast che siano social eccetera. Quindi è fondamentale perché aumenta anche le PR e i link. E poi in descrizione vi lascio anche le linee guida di Google sul sito internet per chi osta l'audio direttamente perché c'è il feed rss da fare, il titolo che deve matchare, la descrizione. Sono importanti, è una guida tecnica. Ma veniamo alla terza parte. La terza parte è fondamentale perché è la SEO. La SEO di un podcast e qui un po' Rossella e Andrea Ciraolo prima della presentazione in questo festival del podcasting hanno detto Giorgio ora ci massacra perché noi non siamo bravi, noi che facciamo podcast non siamo bravi con la SEO. Ed effettivamente è così, effettivamente è così chi si occupa di podcast ha difficoltà ma chi vuole indicizzare un podcast è importante che curi il titolo. E Marcello Pozza che ha parlato proprio prima di me, io ho aggiornato subito le slide, ha detto una cosa importante, ha detto il 53% arriva all'episodio cercando il podcast, cercando l'argomento. Quindi è importante, è vitale questa cosa, il 53% ha portato una statistica interessantissima. Ma il titolo è pieno di errori e i tre errori comuni che i podcaster fanno sono questi. Usano quasi sempre lo stesso titolo. Ogni episodio deve avere il suo titolo, il suo titolo. E voi dite ma sì ma lo usiamo il nostro titolo. No, perché molte volte il titolo del vostro episodio è ha prima il numerino della puntata dell'episodio, poi ha il nome del podcast e poi alla fine ha, i più bravi, ha il titolo. Poi ci sono quelli super bravi che fanno... Diciamo che queste cose se ti occupi di comunicazione le capisci al volo, se hai un minimo di comunicazione. Il titolo definisce il titolo, il titolo è importante, definisce la puntata. E come chiamare il libro come se Umberto Eco, il titolo del suo libro, non lo so, l'isola del giorno prima, invece che chiamarla l'isola del giorno prima, non lo so, metteva tre, facciamo finta, Umberto Eco, l'isola del giorno prima. No, l'isola del giorno prima. Poi, se siete Umberto Eco, il nome. Io dico di non mettere neanche il nome del podcast, neanche il nome della puntata, a meno che non dite stagione 1, sei puntate. E allora, a quel punto, titolo dedicato alla puntata, trattino numero della puntata. Ma sempre a destra, a sinistra, che è la parte più importante per la SEO, che è la parte più importante per Google, è importantissimo che ci sia l'argomento, quindi la puntata a sinistra. Poi, se volete, a destra tutte le altre cose. E l'errore più comune che viene fatto, e si nota, è la ricerca delle parole più cercate. Per esempio, faccio un esempio. Se voi andate su Google e cercate Podcast News, cominciate a fare questa ricerca, spazio, lui incomincia a suggerirvi tutta una serie di cose. Ora, non è questo il caso, vi faccio un esempio. Però, se state trattando un argomento di attualità, so che non fate una keyword research molto approfondita. Pochi di voi sanno utilizzare Google Trends, e lo fanno. Però, quello che voglio dirvi è, almeno i suggest, almeno per avere un'idea di quelle che sono le parole più cercate in quel momento. Quindi, state facendo la puntata su il nuovo iPhone, volete trattare una cosa in particolare, cercate iPhone 12, per esempio, e vedete che magari suggerisce Google il prezzo. Ok, voi non lo trattate, il prezzo non vi interessa. Poi suggerisce il caricabatterie. E allora la vostra puntata è sull'ironia, sul fatto che non c'è il caricabatterie. E allora è importante sapere che ci sono queste parole, perché potreste finire poi, con tutto fatto bene, anche dentro Google Search, che è una fonte di traffico molto molto importante. L'altro errore, io vado un po' sopra, la descrizione. La descrizione importante va fatta, è un qualcosa di utilissimo. Le prime righe del vostro podcast sono importanti, della descrizione del vostro podcast sono importanti, perché sono quelle le prime, di solito proprio le prime righe, che poi finiscono un po' dappertutto. A volte ci sono i feed RSS che non distribuiscono, i siti che accolgono i podcast non distribuiscono magari tutta la descrizione, ma solo un estratto, che sono le prime righe. Le prime righe sono quelle che influenzano poi anche la scelta di ascoltarlo, o meno. È fondamentale concentrarvi molto sulla parte di comunicazione nella descrizione. Se invece poi decidete di avere un sito internet, come vi suggerisco, e di mettere ogni singolo episodio in una pagina, che è la cosa che vi consiglio, potete fare la trascrizione. Ora, stavamo parlando su Fast Forward, mi è stato chiesto se il podcast è lungo o se fare tutta la trascrizione. Io sconsiglio di fare tutta la trascrizione. Ci sono dei podcast che si prestano a questo, ci sono dei podcast educativi, si prestano al testo. Ci sono altri podcast molto lunghi che non si prestano a questo. E allora che cos'è fondamentale fare? Secondo me due cose. Uno, l'indice, come avvene su YouTube, quindi 00.00, apertura. 01.02, quindi un minuto, due secondi, abbiamo trattato di questo. Avere l'indice di cosa è stato trattato e poi, se è necessario per il podcast e va bene per il vostro podcast, che cosa in particolare? Tataratà, i takeaway. Che cosa ci portiamo a casa dal podcast? perché è quello che vi può fare la differenza anche nella scelta magari poi di ascoltarlo. Quindi a seconda della lunghezza, scegliete se trascrivere il podcast se è necessario oppure no, ma almeno indice e takeaway. E poi i dati strutturati nel sito. Ci sono i dati strutturati www.schema.org slash podcast episode, episodio, e c'è lo schema apposito che dà la possibilità, metodi di ricerca, metodi di ricerca, delle informazioni in più rispetto al podcast che voi non potete dare perché non si può fare. È una cosa molto importante, Google sta diventando sempre più bravo anche nel riconoscimento audio, quindi fate queste cose che è importantissimo. Poi ne parleremo in live per sito SEO, c'è l'aspetto importante, sempre in ambito SEO, sono arrivate le metriche SEO su Google Podcast Manager, l'ha segnalato Rossella Pivanti, ne parleremo delle metriche di Google Podcast Manager, nella live di mercoledì, se la potete guardare in differita sarà la sera. Chiudiamo con la parte social, ma che cosa c'è da dire per quanto riguarda i podcast e i social? Una cosa fondamentale, gli hashtag. Allora, gli hashtag sono fondamentali perché le piattaforme hanno innovato gli hashtag, tutte, quindi se io vado su Twitter e cerco oggi, guardo le tendenze, per esempio, qui mi dice hashtag decreti sicurezza e poi mi dice di tendenza con sicurezza e clandestini, cioè Twitter, per esempio, facciamo l'esempio di tre social importanti, Twitter, che cos'è che fa? Mi inizia a mettere non solo che cosa c'è in tendenza, ma quali sono gli altri argomenti che sono andati in tendenza insieme? Di conseguenza, se faccio un podcast e voglio entrare nelle tendenze, è importante magari citare più di un hashtag o più di un argomento, quindi vi consente di studiare quello che sta avvenendo. Fondamentale, quindi vi consiglio sicuramente di usarlo. Il podcast, per esempio, andrebbe, se fatto bene, distribuito anche su YouTube, anche lì si possono usare gli hashtag, però in quel caso su YouTube l'hashtag è più usato quando si partecipa ad un'iniziativa, quindi se tutti gli YouTuber partecipano a, non lo so, hashtag cambiamo l'Italia, per farvi un esempio, quello su YouTube viene usato per quello l'hashtag. Sarebbe importante usare e andare a riprodurre il podcast anche su YouTube, se avete una parte video, secondo me potete farlo, il video podcast lo sta facendo molto bene Rick Duferre nel suo canale, vi consiglio di andarlo a guardare, lo fa benissimo Andrea Ciraolo quando si mette a fare sia podcast che video, lo fanno benissimo tante tante altre persone, ma se non avete quella capacità espositiva di saper interpretare un podcast, parlare in podcast e parlare anche davanti a una telecamera, una cosa che potete fare è semplicemente metterci delle immagini, magari con il vostro avatar, degli effetti visivi, no, solo visivi, visivi, che riproducono il volume che voi state facendo con la voce, ce ne sono tantissimi di potete utilizzare. Ma per gli hashtag c'è anche LinkedIn, fondamentale, dovete saper scegliere gli hashtag, ogni hashtag su LinkedIn ha una pagina che viene seguita, quindi se io sono interessato al digital marketing seguo, sapere quali sono gli hashtag che sono seguiti da più persone è fondamentale, quindi quando seguite e condividete il vostro podcast su LinkedIn dovete senza alcun dubbio andare a vedere quelli che sono gli hashtag importanti usati su LinkedIn, quindi fare qualcosa di più specifico e cercare di capire quelli del vostro settore e poi Facebook la stessa cosa, invece di che dirci quelli più seguiti perché Facebook non ha quelli seguiti, però avete visto anche il video magari su fast forward, ci dice quando siamo un hashtag quanti post ci sono, anche perché poi manda le notifiche push per chi ha la possibilità di vedere ma ovviamente lo racconto, le notifiche su Facebook mi dicono hashtag Google su cui hai pubblicato qualcosa di recente ha nuovi post e quindi in sostanza che cos'è che accade che cos'è che è importante è che Facebook sta spingendo gli hashtag nella sua piattaforma. Per concludere, per fare queste conclusioni che reputo importanti da fare quando si fa una piccola lezione, nella parte brand trovare un nome, uno slogan convincenti è fondamentale, promesse al mercato, nome, slogan importantissimo. Il sito, che era un sito migliora l'autorevolezza, quindi fate un sito per migliorare l'autorevolezza, SEO, allenarsi a creare dei titoli sempre più interessanti è una skill importante che fanno in pochi ma prendetelo come un allenamento è fondamentale, non è solo la SEO con i titoli ma è anche e soprattutto la parte di comunicazione scrittura che fa la differenza. Il titolo di una puntata vi fa la differenza perché attira l'interesse sull'audience e su quanto il podcast viene diffuso. E i social? Trovare gli hashtag giusti per le diverse piattaforme, ogni piattaforma ha l'hashtag giusto per quella piattaforma, quindi studiate queste cose che è molto molto importante. Allora io ho concluso, mi piacerebbe un sacco ricevere insomma i vostri commenti, sapere cosa volete approfondire, l'esperienza che molti di voi hanno nei podcast e la vogliono condividere con noi ricordandovi sempre che se volete potete usare connect.gt. Ad oggi c'è l'hashtag su connect.gt podcast che c'è la raccolta di tutte le discussioni più interessanti sui podcast. È veramente bello, andate su connect.gt nella parte hashtag, è uno degli hashtag più usati attualmente in questo periodo, quindi lo trovate in rilievo e ovviamente qui fastforward è distribuita su tutte le piattaforme di podcast ma soprattutto è qui su youtube dove ci sta ospitando in questo momento, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale youtube e su telegram t.me slash fastforward. Ci trovate fastforward praticamente su telegram, lo trovate su youtube un po' più complesso perché ci sono tante altre cose con fastforward, però ci trovate anche anche qui dato che state magari ascoltando su youtube controllate l'iscrizione della campanella è importantissima la campanella. Ho scoperto che se non clicchi sulla campanella per attivare le notifiche poi succede cose brutte tipo il vostro sito non si vede più su google, i video se fate se siete uno youtuber e create video e non siete iscritti a fastforward con la campanella non vi posizionate più insomma sto ricevendo queste classi di studio molto interessanti e vi consiglio assolutamente di attivare tutte le notifiche, tutte le notifiche, tutte quelle possibili e immaginabili di tutti i canali di youtube così poi sicuramente riuscirete a districarvi tra le varie notifiche. Va bene, stavo scherzando, noi ci vediamo domani, 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 domani parliamo di youtube, una funzionalità pazzesca sta per arrivare su youtube analytics, ma che sta facendo youtube, ma che sta facendo? da la la conto domani. Ciao a tutti